What's up guys, it's me Wispix and welcome back al secondo episodio di Inside Ok, eravamo qua, avevamo appena stordito il maiale assassino Con questo strano essere nel suo culo Oddio, siamo saliti sopra, non l'avevo visto Ok, cerchiamo di prendere... Dai, a... Ok, il maiale forse ci aiuterà a saltare Oh, non ci arriviamo Forse ci sarà qualcun corco Dai, dai amico Non... stai tranquillo Non è successo niente Eh, l'unica cosa che posso fare Oddio Ah... Oh, che cazzo si... Ah, ah... Vabbè, se vado qua... Questi... Non succede niente Faccio così... Oddio... L'è morto... Vanno a aiutare questo... Ok... facciamo così... In due ce la fanno... Ok... Ok... Come devo fare... Forse è ok... Ah... Allora... Aspetta... Proviamo così... Ok... Ah... Dai bastardi... Vai... Ok... No... Eh... Porca puttana... Ah... Ok... Forse si fa così... Oh... Cazzo... Perfetto... Ciao... Maiale... Il nostro amico... Peppa Pig... Ci ha... Abbandonato... Dobbiamo lasciare indietro dopo che ci ha... Attaccato... No... Non ci facciamo scaraggiare... Addio... Le mie gambe sono fortissime... C'è le gambe... Le... Nostre... Noi ci chiamiamo... Justin... Timberlake... Dai... Justin Timberlake... Uh... Finalmente la luce del sole... E torniamo a vedere qualcosa... Di interessante... Intanto stiamo abbandonando le campagne... Per dirigerci verso quella che mi sembra una... Oh cazzo... Una fabbrica... Stavo per dire... Ma... Ma ci sono delle persone... Ah... Vedete... Il camion... Immaginavo trasportasse qualcosa... Pensavo anche... Magari si tratta di qualche cosa di schiavi... Schiavitù... No... Perché... Poi ci avevo nel fucile... Sembrano tipo dei nazisti... Oh... Un altro puzzle... Cazzo... Forse dobbiamo tirarlo... Perché ho visto che c'era... Una corda... Di là... Cazzo... La catena... No... Non è... No... La catena scende... Ma sarà abbastanza... Sì... Ok... Wow... Ok... Saliamo... Sulla corda... Ok... Perfetto... Apriamo questa qua... E... Voilà... Uh... Ancora i nostri amici... No... Non sono... Delle gabbie... Attenzione... La storia si fa molto... Più interessante del previsto... Delle gabbie... Oddio... Qualcosa che parla della schiavitù... No... Sto pensando adesso a questo... No... Qualcosa che parli della schiavitù... Mmm... Quella mi sembra essere pericolosissima... Quindi... Meglio allontanarsi... Ok... Mmm... Scale... O... Ok... Va bene... Dove... No... No... Allora... Forse così... Ok... Va bene... Dovrei riuscire... A saltarci questa volta... Opla... Oh... Voilà... Uh... Oh... Uh... Uh... Oddio... No... Non credo... Funzioni così... Eh... Eh... Via... Uh... No... Di qua non mi butto... Manco morto... Andiamo a vedere... Che cosa è successo... Cazzo... Non l'ho fatto... Oh... Qualcosa luccica... Che cazzo è... Ah... Cazzo... Non so... Forse era qualche generatore... Minchia... Ok... Attenzione... Wow... Niente... Ok... Vabbè... No... Oh... Ancora... Gli uomini... Pesce... Cosa è qua... Allora... Vediamo cosa fanno... Se vanno di qua... Niente... Allora... Allora... Ok... Eh... Ciao amico... Come va... Tutto bene... Sono stacco... Lavorato... Eh... Niente... Niente... Se ne vanno... Così... Boh... E qua... Così... Un cazzo... Allora... Lascia qua... Vediamo... Ok... Proviamo... Allora... Wow... Figata... Opla... Ciao... Cazzo... Cazzo... Minchia... Ho avuto una paura pazzesca... Scale... Via... 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 Perfetto... Siamo usciti quindi dalle catacombe... E siamo tornati su... Finalmente... Alla luce del sole... Attenzione alle travi... Ancora cadono... Perfetto... Wow... E adesso... E adesso... Dobbiamo lasciarci cadere... Cazzo... Guardate là... Ci sono delle persone... Tipo... Porco giudo... Eh... Come cazzo faccio? Un altro generatore... Un altro generatore... Dovrei riuscire magari a saltare... Può essere... Oh... Oh... Sì... Perfetto... Ancora gli uccelli... Via... Via... Ok... Oh... Yes... Via... Via... Sì... Cazzo... No... 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 Stavo dicendo... Magari è qualcosa... Veramente tipo... Seconda guerra mondiale... Tipo... Questi suoi ebrei... No... Che sono... Stanno... Per essere condotti... Nei campi di concentramento... Poi si chiama... Inside... Quindi qualcosa... Deve centrare... No... Sicuramente... Scendiamo... Intanto... Vedi... Sono tipo... Militalizzati... No... Qualcosa di molto strana... Eh... Apriti... Ah... Ok... Sono riuscita ad entrare... Oh... Ah... Una scala... Un topo... Cerchiamo di salire sulla scala... Ok... Non c'è un cazzo... Niente... Questa scala... Forse ce la dobbiamo prendere... Possiamo prenderla... Ok... Bellissimi... Perfetto... Cazzo... Ma questo qua... Non è che si alza come il maiale... Forse questo si schiaccia... Cazzo... No... 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 Spegniti... Perca puttana... Serve un'energia elettrica... Oddio... Inizia a diventare difficile... A otto eh... Sto gioco... Ok... Oh... Allora... La luce non ci... Non ci piace... Oh... Quello si è mosso però... Ok... Ok... Via... 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 Cazzo no... No... Mannaggia... Che cazzo... Sono un idiota... Sono un idiota... Non ce l'ho arrivato prima... Non ce la farò mai... Devo farlo prima... Devo alzare prima... Questa barriera... Oddio... Che scemo... Eh... Vaffanculo... Eh... Scusate ragazzi... Ma io... Ovviamente... Devo... Arrivarci con un po' di tempo... Però poi... Cioè... Alla fine ci arrivo... Ok... Uno... E tra l'altro... Questi giochi... Mi piacciono pure per questo... Perché... Devi... Devi far... Muovere il cervello... Via... Uh... E si sale... Sempre più su... La la la... La la la... La la la... Si sale... Si... Magari... Un po' più velocemente... Però si sale... Ok... Ok... Ce l'abbiamo fatta... Uh... No, 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 no... Non ti rompere... Ok... Perfetto... No... 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 Cazzo... No... No... E adesso... No... Non ci credo... Sta copiando niente... Cazzo... Che bastardo questo qua... Mi sta rompendo di cui io... Eh... Cazzo... Uno... Due... Tre... Quattro... Cinque... Sei... Sette... Otto... Salto... Tocca a noi ragazzi... Tocca a noi... Porco Giuda... Oh... 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 Madonna... Cazzo... Cazzo... Non ci credo... Bellissimo, devo dire la verità, è bellissimo Ok, nel quadrale, nel rettangolo si salta, appunto Vaffanculo, robò di merda Oddio, come si fa? Lasciami stare, ti prego Tra l'altro dovete vedere veramente come si gira lui per Mamma mia Che cazzo sta succedendo ancora? No I cani, i cani, i cani, i cani Via, 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 via Ok E niente, per oggi, per questo secondo episodio Siamo sfuggiti ai cani, abbiamo fatto un sacco di cose Siamo entrati in questa sorta di fabbrica di zombie Non lo so, zombificano le persone Non lo so, non so in che anno è ambientato Mi sembra nella seconda guerra mondiale Però, con questo secondo episodio Io vi saluto Sperando di rivedervi nel terzo episodio con Inside La storia si fa sempre molto più interessante Con dei puzzle game veramente fantastici Noi, appunto, ci rivediamo nel prossimo episodio Vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti Di lasciare un like se l'episodio vi è piaciuto E, ovviamente, se volete, appunto, condividere questo video Noi ci rivediamo al prossimo Ciao a tutti Ciao a tutti